Io qui e le battute della gente ho la curiosità di una ragazza irreverente che si avvicina solo per un suo dettungro impertinente vuole scoprire se è vero quanto si dice intorno ai noi che siano i più fortemente della virtù meno apparente tra tutte le virtù la pide c'è Basta un'idea che esiste, esser conti anche i minuti è triste trovarsi adulti senza esso ricresciuti la vaticenza insiste, batte la lingua sul tattura fino a dire che un nano è una carolina di sicuro perché ha il cuore troppo, troppo vicino al buco del ruolo che prepara il chiesa diventa il procurato per invoccare la strada e dalle banche una cattedrale porta alla sacrestia quindi alla cattedrale di un tribunale giudice finalmente arbitro in terra del bene e del male e allora la mia statura a dispensa di un buon cuore a chi alla pallare i piedi mi diceva vostro amore e di abitarli al voglia un piacere della tutta meno prima dice nuplettarmi è l'ora dell'addio Ma sto lasciando a passo la natura di Dio